Alessandro e Soleil potrebbero creare un nuovo triangolo con Sophie che ignara di tutto prosegue la sua storia con Alessandro. Infatti Sophie è sempre stata gelosa di Jessica con la quale ha avuto anche un chiarimento. Ma parallelamente Soleil sta frequentando molto Alessandro con il quale ha avuto anche un chiarimento in giardino. La stessa le ha confessato che lui sarebbe identico al suo ex sidenzato. Quando sorride non può guardarlo perché è identico. Alessandro non è da meno che confessa a Soleil che al di fuori del grande fratello gli piaceva molto. Infatti poco tempo fa Manila disse a tutti che conosceva le ex di Alessandro e sono tutte simili a Soleil, quindi la tipologia di ragazza che fa perdere la testa ad Alessandro e Soleil non Sophie. I due sono sempre più vicini e Alessandro le dice che vorrebbe continuare a dormire con lei. Soleil durante questo confronto sente una musica che mette il grande fratello e dice subito Ora stacchiamoci altrimenti va a finire male. Poi ci giudicano e potrei non rispondere delle mie azioni. Vedremo sicuramente un confronto tra i tre nella prossima diretta. Canale YouTube Fabio Pecce